Nulla da fare per il notaresco che cade per 3-0 sul campo della capolista recanatese al termine di 90 minuti che hanno visto la maggior caratura giallorossa di fronte alla timida formazione rosso-blu apparsa sottotono e con la testa probabilmente alle vacanze. Al Nicola Tubaldi si gioca in un pomeriggio freddo di fronte a 300 spettatori. Al quinto minuto proteste vibranti della formazione marchigiana per un contatto in area ospite fra Bellardinelli e Senigalliesi che cade a terra e con Romaniello di Napoli che lascia proseguire. All'ottavo ancora padrone di casa pericolosi con la punizione di Senigalliesi e la deviazione di Maio che costringe Sciba alla deviazione in calcio d'angolo. Al nono minuto sempre recanatese pericolosa in area con un tiro al volo. La squadra di Pagliari fa subito capire le sue intenzioni attaccando a testa bassa. Al quindicesimo minuto c'è il primo squillo abruzzese con il tiro a fil di palo di Bellardinelli. Al sedicesimo tocco con la mano in area notareschina di pesce con il direttore di gara che assegna il rigore alla formazione marchigiana e con Sciba che ipnotizza Senigalliesi che si fa respingere la conclusione dagli 11 metri. Si resta così sullo 0-0 con l'area canatese però sempre all'attacco come accade al diciannovesimo quando Sciba dice no ancora a Senigalliesi e con Minicucci che poi in area gira la sfera fuori. Gara che sembra praticamente a senso unico con la formazione di Epifani in affanno al cospetto dei Lopardiani. All'ennesimo tentativo quando il cronometro segna il trentesimo i padroni di casa trovano il gol con Sbaffo che di testa su cross di Senigalliesi supera imparabilmente Sciba per l'1-0 marchigiano. Vantaggio meritato per i giallorossi che non si accontentano fino all'intervallo non accade più nulla con l'1-0 locale con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa nel notaresco c'è Sorrini per Berardinelli. La gara è più equilibrata anche se senza cuti. La squadra di Massimo Epifani cerca di spostare avanti il baricentro ma l'area canatese è attenta e non concede praticamente nulla. Al ventunesimo Valenti ci prova dalla distanza per gli ospiti ma un difensore marchigiano respinge. In campo accade poco anche se il notaresco prova almeno a pareggiare i conti. Tiene la squadra di Pagliari senza mai rischiare trovando poi al 32esimo ancora con sbaffo la rete del raddoppio con una conclusione imparabile dell'ex giocatore dell'Ascoli. Partita a questo punto chiusa con la capolista del girone che allunga ancora in classifica e che poi al 38esimo con un euro goal di Ferretti trova il tris. Brutto colpo per il rosso-blu. Ora due settimane di sosta per ricaricare le pile in casa Notareschina prima della ripresa del 6 gennaio con il recupero di Castelfidardo e la gara del 9 gennaio in casa contro l'Alto Casertano.